Abbiamo fatto una buona partita, secondo me di grande fase difendente, abbiamo lavorato molto su dei concetti che secondo me nelle ultime due partite non avevamo fatto bene, oppure ancora meglio dovevamo fare in una maniera migliore come questa squadra ha sempre fatto e oggi l'ho visto. La Sacra Monese è una squadra insidiosa che riparte sugli spazi, quindi coperture preventive fatte bene, grande attenzione e anche bel gioco, grandi occasioni create, attaccato bene, portato uomini dentro l'area, mancata la stoccata per andare avanti e poi le partite quando rimangono in equilibrio in queste categorie non sono mai facili. Però io credo che poi abbiamo avuto, soprattutto tanto nel primo tempo, e poi abbiamo avuto un rigore in movimento che purtroppo Geri non ha fatto, ma questo fa parte di un aspetto tecnico, quindi io sono contento della prestazione. Pubblico spettacolare, tutti quanti noi, soprattutto i ragazzi, ci tenevano a ritornare alla vittoria davanti a questa cornice stupenda. Ci hanno messo l'anima, ci hanno messo cuore, ci hanno messo senso di appartenenza, ci hanno messo tecnica e gioco. Purtroppo non è arrivata la vittoria, questo è il calcio, in questa categoria bisogna sudare e giocare fino all'ultimo minuto, quindi mettiamo a casa un pareggio, secondo me dopo una buona prestazione. Zibue sta crescendo, in queste 3-4 settimane è migliorato molto, è un giocatore che ci darà sicuramente una grande mano.